Musica Comprava macchine di lusso ma dichiarava poche migliaia di euro. Maurizio Lucchese non ha convinto chi indagava sul suo conto e per lui è scattato il sequestro di beni da 2.700.000 euro. Il provvedimento arriva al termine delle indagini patrimoniali del nucleo di polizia tributaria. In passato Lucchese era stato accusato di aver chiesto il pizzo nel 2012 allo chef Natale Giunta e lo scorso febbraio era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per tentata estorsione. L'imputato in quell'occasione aveva fatto ricorso in appello contro la sentenza. Lo chef in quel periodo gestiva una società di catering. Per lui furono mesi difficili, telefonate, intimidazioni ed infine la richiesta estorsiva di 2.000 euro a Pasqua e altrettanti a Natale per avere la pace assoluta. Giunta decise di non pagare il pizzo e si rivolse alle associazioni Libero Futuro e Addio Pizzo, che l'aiutarono nella lotta contro le estorsioni. Parallelamente i finanziari del GICO hanno iniziato i controlli sul patrimonio dei lucchesi. Dal 1997 al 2011 i familiari di Lucchese hanno dichiarato redditi appena sufficienti a soddisfare le primarie esigenze di sussistenza. Nel 2009, a fronte di un reddito dichiarato di 4.700 euro, la moglie acquistò una Mercedes che ne valeva 27.000 e successivamente un'altra da 51.000 euro con un reddito dichiarato di appena 1.000 euro. Sono finiti anche sotto sequestro l'attività commerciale di autonoleggio per cerimonie Any Cars in via Siracusa, di cui era intestataria la moglie di lucchese Anna Puccio, la caffetteria Puccio di via Macheda, due Mercedes, una Maserati e una Porsche. È di un morto e tre feriti il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì sulla statale 115 Gela Manfri, all'altezza di Montelungo. Nell'impatto violentissimo tra una Nissan Micra e un autobus di linea diretto a Licata, ha perso la vita un uomo di 36 anni, crocifisso Emanuello, che viaggiava a bordo dell'auto in direzione Gela. Per cause ancora da accertare, l'uomo che è deceduto sul colpo avrebbe perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con l'autobus che viaggiava in direzione opposta. Tre le persone rimaste ferite, tra cui anche una bambina. Tutti viaggiavano sul pullman e sono stati trasferiti all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. L'impatto è stato talmente violento da fare accartocciare completamente l'auto in cui è rimasto incastrato il corpo senza vita di Emanuello. Per estrarre il cadavere dalle lamiere sono dovuti intervenire forze dell'ordine e i sanitari del 118. Sul posto anche la polizia stradale di Gela, che ha effettuato rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Bisogna chiarire, infatti, se la causa abbia a che fare con l'alta velocità che, insieme all'asfalto bagnato, può avere fatto sbandare il mezzo, o se si è trattato invece di una fatale distrazione o di un sorpasso azzardato. Safir Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza in manualità che da sempre la contraddistingue. Safir La sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Macchina amministrativa siciliana troppo costosa, ecco pronta la scura regionale che punta a tagliare i costi degli enti locali, ridurre i consiglieri comunali già a partire dalle prossime elezioni, diminuire i compensi di sindaci, assessori e consiglieri comunali. I primi cittadini di città come Catania e Palermo avranno una riduzione tra i 1.000 e 1.500 euro lordi al mese, mentre i consiglieri perderanno 25 euro a seduta, cifre che si riducono in altri centri in base al numero di abitanti. Nella manovra targata a Baccei, l'assessore all'economia punta a ridurre significativamente non solo i costi, ma anche la gestione di enti e amministrazioni per renderli più virtuosi, con norme scritte che saranno inserite nella finanziaria di aprile con già 67 articoli per renderle in parte immediatamente applicabili. Il numero dei consiglieri comunali passerà in città con più di 500.000 abitanti da 50 a 40 consiglieri come Palermo, città con meno di 500.000 abitanti ma più di 250.000 come Catania ne perderanno 11, da 45 si passerà a 36 consiglieri, Messina nella fascia delle città con più di 100.000 abitanti ma meno di 250.000 scenderà da 40 a 32 consiglieri comunali, nei comuni con più di 30.000 abitanti ma meno di 100.000, Ragusa, Siracusa e gli altri capoluoghi, si scenderà dagli attuali 30 a 24 consiglieri, i comuni con più di 10.000 abitanti avranno solo 16 consiglieri, quelli con più di 3.000 abitanti scenderanno da 15 a 12 e infine i comuni piccolissimi avranno al massimo 10 consiglieri. Arriva anche la stretta sui permessi lavorativi per partecipare alle sedute consigliari o in commissione. Prima era l'intera giornata, dopo l'approvazione della finanziaria, si potranno assentare solo per la durata della seduta. Assessori e capigruppo, oltre ai permessi già citati, avranno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per 24 ore al mese. Si rivedranno indennità di funzione e gettoni di presenza ridotte del 20%. Una norma punterà anche ad arginare il fenomeno dei doppi stipendi. Baccei ripropone il taglio di alcune strutture della regione come l'Aran, l'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, il personale passerà alla funzione pubblica. Poi sarà la volta dell'ente porto, le cui funzioni saranno trasferite all'autorità portuale, il personale ricollocato e infine si punta alla chiusura di sei dei nove uffici speciali. Sarà possibile, dalle ore 12 del 16 febbraio 2015, come da Circolare Ministeriale 68032 del dicembre 2014, presentare online le domande sul sito www.smartstart.invitalia.it. Tra le novità dell'incentivo Smart Start Italia, che favorisce e diffonde la nascita di nuove iniziative imprenditoriali legate all'economia digitale, si evidenzia un'opportunità per le imprese costituite in forma di società di capitali da 48 mesi o di nuova costituzione e si estende a tutto il territorio nazionale e prevede un contributo a fondo perduto pari al 20% per le start-up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano che restituiscono solo l'80% del mutuo agevolato ricevuto. L'opportunità si rivolge anche ad un team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in Italia anche se residenti all'estero o di nazionalità straniera. La documentazione utile per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito entro il 6 febbraio 2015. L'idea di business dovrà concentrare la sua forza sulle caratteristiche tecnologiche innovative o sviluppare prodotti, servizi e soluzioni nell'ambito dell'economia digitale o anche valorizzare in termini economici i risultati del sistema della ricerca. C'è posto anche in Sicilia per le 109 posizioni lavorative aperte da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega medie e piccole destinazioni in tutta Europa. Il vettore continua a crescere e per il 2015 lancia la Volotea Cabin School per il training e la formazione dei nuovi equipaggi. I 100 posti di lavoro che si stima verranno creati saranno suddivisi tra le basi di Palermo e Venezia, 25 presso l'aeroporto Falcone-Borsellino e 75 in quello Veneto. Le selezioni avverranno nel primo semestre del 2015 e i candidati scelti avranno l'opportunità di seguire un periodo di formazione al Training Center di Madrid. Per candidarsi bisogna avere più di 18 anni, un'ottima conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua tra spagnolo, italiano e francese. Gli aspiranti hostess o steward inoltre devono abitare a 45 minuti di distanza dal Falcone-Borsellino, devono essere in possesso del passaporto europeo valido e superare un test medico per garantire di essere in perfetta forma e in grado di nuotare. I giovani che vogliono lavorare in Volotea inoltre devono essere positivi e socievoli, desiderosi di lavorare in un team e pronti a mettersi in gioco in nuove sfide. Per candidarsi basta andare sul sito volotea.com nella sezione Cabin Crew, rispondere al questionario in inglese e spedire così la propria richiesta di lavoro. Potranno partecipare alle selezioni sia coloro che già possiedono i requisiti e le qualifiche per poter lavorare a bordo di un aeromobile, sia i giovani appassionati di aviazione che vogliono intraprendere una carriera in una compagnia aerea. Arriva il nuovo bando di ammissione di allievi ufficiali alle Accademie Militari Italiane per l'anno 2015-2016. Dal sud Italia e dalla Sicilia in particolare si prevede un afflusso notevole di domande per il concorso che quest'anno prevede un unico bando per accedere alle Accademie che formano ufficiali delle Forze Armate. In palio ci sono 373 posti così suddivisi, 141 per l'Accademia dell'Esercito, 108 per quella navale, 84 per l'Aeronautica e 40 per i Carabinieri. A conferma del boom di domande che si prevede provenire dalle Sicilia, ci sono i dati dei ultimi concorsi dell'Esercito riportati dal tenente colonnello Virgilio Savarino. Lo scorso anno ha dichiarato il responsabile dell'Ufficio Comunicazione della Regione Militare Sud a fronte di circa 7.000 posti abbiamo avuto più di 30.000 domande, di cui quasi il 50% proveniente dalle tre regioni più estese del sud, ovvero Sicilia, Campania e Puglia. Tra i requisiti necessari per partecipare al concorso compaiono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere tra i 18 e i 22 anni, mentre per coloro i quali sono del ruolo ispettori e sovrintendenti non dovranno aver superato i 28 anni di età alla data del 31 ottobre 2015. La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente secondo le modalità specificate online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e sul sito del Ministero della Difesa. È presentata entro il prossimo 10 febbraio. L'esame di ammissione prevede una serie di prove scritte e orali, da quella pre-selettiva a quella di efficienza fisica, dall'italiano alla matematica. Palermo arrivano i primi grandi disagi in via Emerico Amari, vero e proprio cantiere a cielo aperto. Dopo la rivoluzione del traffico nella zona di via Cavour per l'avvio dei lavori del collettore fognario, adesso a complicare la situazione si aggiungono i lavori per il completamento dell'anello ferroviario. Sono state posizionate infatti le transenne che delimitano l'area delle cantiere, ma non è stato previsto nessun passaggio nei primi 200 metri, ovvero metà della carreggiata della strada, in un tratto che si trova poco più avanti rispetto alla Camera di Commercio. Gli operai della Tecnis hanno di fatti rispettato quanto annunciato dalla stessa azienda la settimana scorsa, posizionando i primi cartelli che annunciano l'inizio dei lavori. In questa prima fase verranno effettuati gli interventi di spostamento delle sottoreti che comprendono cavi, tubature e fogne. Per questo motivo ad essere coinvolte sono diverse aziende, tra cui l'AMAP, che si occupa sia di condutture idriche e di rete fognaria, l'AMG per quanto riguarda il gas e l'illuminazione pubblica. C'è poi la Telecom, l'Enel per la media e la bassa tensione. La Wind è FastWeb per tutti quei cavi legati all'anello telematico e alla fibra ottica. Arriva dal Movimento 5 Stelle di Agrigento il pieno sostegno alla lotta dei giovani studenti agrigentini che si stanno battendo contro la paventata e ventilata chiusura del consorzio universitario. Come si sa, vivere Polo Agrigento, presieduta da Liliana Injaimo, e vivere Ateneo con presidente Ivan Marchese, hanno avviato da qualche settimana una raccolta firme per scongiurare la chiusura. Oggi il Movimento 5 Stelle si schiera dalla parte dei giovani ed in particolare degli studenti universitari che ogni anno vedono l'esu il diritto allo studio. Resta inteso, si legge nella nota, che il Movimento 5 Stelle di Agrigento sosterrà gli studenti del Polo Universitario anche in futuro e si adopererà per quanto possibile, non solo a tutela degli stessi e dei loro diritti, ma anche per avere riconosciuto il valore aggiunto che lo stesso dà alla nostra città. In caso di chiusura sarebbero numerosi gli studenti destinati in altre sedi. Il disagio non sarebbe solo per chi studia presso il Polo Agrigentino, ma anche per chi patirebbe dell'aumento del numero degli studenti nelle altre sedi. Sulla questione sentiamo il Rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla. In questo momento una tendenza nazionale è quella di un complessivo ridimensionamento delle esperienze di decentramento universitario. Occorre quindi rivisitare in termini di sostenibilità economica e didattica il Polo di Agrigento così come tutti gli altri poli decentrati. Io rivendico all'Università di Palermo una politica che in questi anni ha voluto mantenere aperti e funzionanti i poli decentrati. Abbiamo fatto tutto ciò che ha in nostro potere per venire incontro alle esigenze rappresentate dal Consorzio Universitario di Agrigento. Non intendiamo deflettere da questa politica perché è certamente la presenza dell'Università, una valorizzazione del territorio. È chiaro che gli enti locali debbono assumere responsabilità e con essi la Regione. Abbiamo anche esplorato con l'assessore Lobello la possibilità che attraverso il conferimento di speciali azioni formative ai consorsi questi possano trovare anche forme di finanziamento attraverso il Fondo Sociale Europeo. E' una materia che stiamo esplorando ma comunque non intendiamo né ammainare la bandiera né stiamo parlando di chiusura. E' però evidente che chi ha responsabilità politiche e amministrative deve sapersele assumere fino in fondo perché non basta rivestire ruoli ma occorre saperli interpretare. Saranno esposte sino al 13 febbraio a Palermo presso il Parazzazzino le opere di Franco Accursio Gulino, un artista a tempo pieno come lui stesso si definisce. La selezione delle opere proposte per la mostra denominata Memoria non nasconde le diverse fasi vissute dall'artista che partendo dal quotidiano offre spunti di riflessione su tematiche di grande attualità attraverso un linguaggio che passa dalla pittura al cinema alla scrittura. Siciliano, nato a Sciacca, l'artista ha raccolto importanti riconoscimenti e premi. Le sue opere sono presentate in rassegne nazionali ed internazionali e sono presenti numerose collezioni pubbliche e private. Grande interesse ha ottenuto con l'opera Ferdinandea Isola Pensante una produzione video presentata dal comune di Palermo ed ispirata alle sue opere pittoriche su regia di Claudio Pappalardo. Singolare è il lavoro che ha realizzato trasformando il dramma dell'immigrazione in arte rappresentando il clandestino su su vecchia porta o dipingendo frammenti di barche clandestine recuperate in varie zone portuali. Comunica. Codice 202 in atto sul Palermo 98. Banzi in appoggio anche alla me. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Chi covo un amore d'uovo. Sembra già un ex. Eppure Ezequiel Mugnoz è ancora rosa nero. A fare chiarezza sul suo futuro ci pensa la gente del calciatore Ortiz. Mugnoz non è stato messo fuori rosa dal tecnico del Palermo, dice. Il presidente ha chiesto di accorciare i tempi, di dare una risposta e l'allenatore ha deciso di metterlo in panchina. Ha sempre dato il massimo a Palermo, squadra in cui ha giocato cinque anni. Ora ha tutto il diritto di scegliere, pensare al suo futuro. Non sarebbe un traditore se andasse via Mugnoz al Napoli. Non è vero, è una bugia grande quanto la città di Palermo. Con la società siamo stati chiari, ma non ci sono stati contatti con Napoli. Non abbiamo mai parlato con Bigon, Michele o De Laurentiis. Non è vero nemmeno che Mugnoz andrà alla Roma. Sono certo che è chiuso il mercato, qualche squadra si farà avanti. Credo che i club interessati in Italia vorranno intraprendere un rapporto da giugno. Però all'estero il discorso cambia e quindi Mugnoz potrebbe anche andare via a gennaio. Intanto per un difensore che va via, un altro spera di restare ancora a lungo e continuare a mettersi in mostra. Ossia Giancarlo González che dice Il nostro primo obiettivo è la salvezza, ma una volta centrata vedremo per altri obiettivi. Noi per ora dobbiamo giocare partita dopo partita per vedere dove possiamo arrivare. Purtroppo abbiamo subito tante reti ed essendo io un difensore centrale non sono felice di questa statistica. Prosegue la preparazione del Rosanero in vista della gara contro la Sampdoria di domenica a Marassi. Notizia importante per il Rosanero. Non ci sarà tra i blucerchiati Samuel e Tocco. Proseguono i grandi lavori in casa Catania con incentivo in più arrivato dal campo vista la netta sconfitta partita sul campo della Virtus Lanciano nel primo weekend di campionato del nuovo anno. Un 3-0 che non ha messo repliche per la formazione guidata per la prima volta in questa stagione da Dario Marcolin che al di là del passivo pesante non ha mostrato alcun segno di miglioramento rispetto alle ultime apparizioni del 2014. Il tutto nonostante la presenza in campo di tutti e tre i nuovi acquisti ovvero Belmonte, Coppole e Maniero i quali vorranno certamente affiancati da altri volti nuovi. Il direttore sportivo Daniele Delicarri sta lavorando in maniera costante per portare all'ombra dell'Etna i giocatori migliori che il mercato di riparazione offre. E negli ultimi giorni sono arrivati due nuovi acquisti tra le file del Catania volti a rinforzare rispettivamente la difesa e il centrocampo. Raffaele Schiavi, Luca Ceccarelli e Daniele Sciaudone sono i tre volti nuovi in Cassettnea e ognuno di loro porterà la giusta esperienza e le necessarie doti tecniche per consentire al Catania di rendere meno tragica la situazione in classifica che attualmente vede gli uomini di Mr. Marcolin in penultima posizione e con la prospettiva di dover fare un vero e proprio miracolo anche solo per agguantare la zona playoff. Intanto i rossazzurri venerdì sera giocheranno al Massimino contro la Provercelli. Una partita a questo punto che diviene fondamentale da vincere e basta. Trapani che invece giocherà sul campo del Vicenza sabato pomeriggio. Una gara anche questa molto delicata soprattutto dopo la sconfitta interna del Trapani con il Pescara. Siamo usciti dalla recessione, ora aumentare i redditi per tutti. La svolta economica negli Stati Uniti al centro del discorso preannunciato da Obama sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso. Tra i temi di politica estera affrontati da Obama, la lotta al terrorismo islamista, la fine dell'embargo nei confronti di Cuba, lo scontro con la Russia per la crisi in Ucraina, la trattativa per il programma nucleare iraniano. Premier Renzi oggi a Davos in Svizzera per prendere parte al World Economic Forum. Stamane l'incontro con gli imprenditori in cui ha ribadito la volontà di proseguire sulla strada delle riforme. A partire da quella elettorale. Ci sono polemiche, ha detto, ma andremo avanti senza mollare di un centimetro. Iniziato intanto in aula al Senato il voto sugli emendamenti all'Italicum. Ieri lo strappo della minoranza PD, contraria ai capilista bloccati. I numeri ci sono, assicurato il ministro per le riforme Boschi. 24 arresti in un'operazione della DIA di Napoli nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati delle ASL. Secondo le indagini, il clan di Michele Zagaria controllava l'ospedale di Caserta. Truccava i bandi di gara per favorire imprenditori amici per un giro di affari da milioni di euro. Coinvolto l'ex sottosegretario Cosentino fino al suo arresto nel marzo 2013. 53 padiglioni, 140 paesi coinvolti, oltre 7 milioni e mezzo di biglietti venduti. Sono i numeri dell'Expo di Milano a 100 giorni esatti dall'inaugurazione. Nonostante gli scandali e i ritardi nei lavori, si va verso il completamento per l'80% dei cantieri. Restano tuttavia numerosi progetti non realizzati. Almeno 12 feriti, di cui 4 gravi ricoverati d'urgenza negli ospedali cittadini. È il bilancio di una mattinata di terrore su un bus a Tel Aviv. Un palestinese di 22 anni ha inferito sui passeggeri accoltellandoli. L'uomo è stato fermato mentre tentava di dileguarsi. La polizia gli ha sparato alle gambe. Plauso da Hamas all'attentato. La polizia gli ha sparato alle gambe. La polizia gli ha sparato alle gambe. Grazie a tutti